A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.403,28 punti, sulla stessa linea, in colore il Nasdaq 100, che archivia la seduta a 7.691 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il Nikkei 225, meno 0,41%, come l'indice cinese, meno 0,35%. All'insegna della prudenza il bilancio nel vecchio continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso Francoforte, che mostra un più 0,15%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,49%, sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato più 0,14%. Si distingue a Piazza Affari il settore automotive ed esibisce un più 1,04% sul precedente Scambia in profit Ferrari, che lievita dall'1,22%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell'ISM manifatturiero. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI manifatturiero. Mercoledì, ancora in Unione Europea l'agenda prevede il dato sulle vendite al dettaglio. Mercoledì, ancora in Unione Europea.